Dato che vi piacciono le piante mortali andiamo a vederle. Questa è una troppa bella donna, la bella donna. Pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle solanacee. È una pianta che è presente su tutto il territorio italiano ma è molto rara. Quindi appunto pur essendo presente è piuttosto rara, quindi non è così facile da incontrare. Se la incontrate comunque la riconoscete perché è una pianta erbacea che si sviluppa una notevole altezza. Guardate, questo è un esemplare di più di due metri. Ha un fusto che è leggermente glabro anche se è un pochettino scarioso, sembra che abbia una leggera peluria. Spesso arrossato sul bordo più esterno. Le foglie, vado a prenderle. Scusate ma io sono bassa quindi. Le foglie, guardate, sono disposte tutte da un unicolato. Vedete, sono di solito a coppie di due. Sono disposte in un unicolato, sono picciolate. Qua hanno una forma più o meno romboidale, si vedono molto bene sia la nervatura primaria che quelle secondarie. Ripeto, sono disposte tutte e due nello stesso lato e una è un pochettino più piccola rispetto all'altra. I fiori che sono stupendi, sono campanulati, sono questi. Ve li faccio vedere. Guardate, anche la parte interna. E questi sono i nostri frutti, frutti che poi diventeranno delle bacche nere. Tutta la pianta è tossica, anzi è velenosa, quindi mortale. Mortale per la presenza di sostanze come la tropina e la scopolamina che è vero che vengono anche utilizzate in medicina, ma ovviamente vengono utilizzate dai medici a dosaggi specifici. Guardate le foglie disposte nello stesso lato e una più grande è una più piccola, a coppie. Vedete? Questo vi permette di riconoscerla. Quindi assolutamente è una pianta da lasciare assolutamente stare perché è, ripeto, mortale. Ok? Quindi non azzardatevi a cucinarla, a toccarla, a farci qualsiasi cosa. Viene chiamata a troppa, da troposchi, era una proprio delle parche, quella tra l'altro che tagliava il filo della vita. Quindi giusto perché non si capisse bene da che cosa ci troviamo di fronte. Bella donna per diversi motivi. Sembra che uno dei motivi per cui è stata chiamata così perché le donne per apparire con la pupilla più dilatata, quindi più bella, utilizzassero alcune gocce di questa pianta. Adesso non so bene se qualche infuso, qualche cosa. Proprio per dilatare la pupilla, quindi per determinare medriasi, quindi dilatazione della pupilla e avere questo sguardo più intenso, più bello. Ecco, pratica, ovviamente, che facevano una volta, ma assolutamente sconsigliabile. In medicina, come tantissime piante tossiche, è una pianta fondamentale, però, ripeto, appunto, in medicina. Ecco qua. Questa è, appunto, la tropa, bella donna, famiglia, sola nace, ve la faccio vedere ancora una volta. Pianta mortale.